Crisi dell'Arezzo, a che punto siamo? L'amministrazione comunale comunque ha detto che si impegnerà per trovare un epilogo felice a questa vicenda, a che punto siamo? Allora, non è che si impegnerà, si è impegnata, si sta impegnando e si impegnerà. Nel senso che sono attivi contatti da parte dell'amministrazione, devo dire, nella persona del sindaco, e faccio questa cosa da solo proprio perché è necessario avere un carattere di riservatezza e di non rendere pubblici i passi che via via si stanno facendo. Di certo è questo, che io sto sentendo numerosi imprenditori che in modi diversi danno tutto sommato disponibilità a continuare in un percorso di finanziamento della società. Manca il nome forte, il nome grosso, il nome che alla fine poi in qualche modo entrerà nel Consiglio di Amministrazione. Insieme ad altri da solo non si sa, per cui si sta attivando il piano B, che non esclude i locali, ma mette in affiancamento i locali anche nomi non della nostra città, ma che hanno interesse comunque a occuparsi delle vicende sportive, ma anche indirettamente finanziarie, della Rezzo Calcio. Questo è importante perché è vero che se si fosse riusciti a fare tutto in casa, per certi versi era anche meglio. Vorrei dire che la città trova al suo interno tutte le risorse che servono anche per veicolare bene una squadra di calcio. Ma il fatto che qualcuno che viene da fuori riconosca nel marchio US Arezzo qualche cosa che ha un valore, anche se oggi c'è qualche problema finanziario, vuol dire che la città sta dando di sé un'ottima immagine. E quindi io di questo sono contento. Poi se arriveremo in fondo non lo so. Io mi auguro ovviamente di sì, ma non solo per il lavoro svolto, perché sarebbe veramente una diminuzione eccessivamente pesante per la nostra città, proprio come il nome di Arezzo che verrebbe portato per l'ennesima volta per tribunali per problemi di insolvenza. Quindi io credo che sono ottimista, sono fiducioso, ma sono anche sinceramente ottimista. Poi i giochi non sono ancora chiusi, lo vedremo nei prossimi giorni. Quello che comanda a tutti, dichiarazioni generiche come queste le faccio. Di più non le posso, ma non le voglio fare, perché non è il momento, non è opportuno farle. Al momento opportuno tutti sapranno tutto. Il fatto di uscire su un giornale o in una trasmissione mezz'ora prima di un altro con un nome in più, fa comodo a chi lo fa, ma fa assolutamente scomodo a tutto il processo. Ma hai incontrato comunque degli imprenditori a Retini, fuori Arezzo, li incontrano nei prossimi giorni? Si può parlare di una cordata o di un singolo imprenditore al momento? Diciamo che si parla di più di un imprenditore che hanno dato disponibilità. Non hanno posto condizioni, se non quelle, per il momento di non comparire. E quindi vedremo in che modo saranno resi pubblici anche i loro nomi, quando avremo costruito il meccanismo di sostituzione del management della società che in questo momento ha difficoltà finanziare. Mi manca un incontro importante che farò nei prossimi giorni. Con un imprenditore a Retino o anche in questo caso si parla di un piano B? Con molti imprenditori a Retini, in maniera, diciamo, se sarà possibile, conclusiva, ma anche con un imprenditore non di Arezzo. La scadenza importante di dicembre verrà rispettata? Si sarà trovata comunque una soluzione prima di quel termine? Ragazzi, se non si è trovata vuol dire che si è fallito, quindi voglio dire che l'obiettivo è quello, arrivare a dicembre per poter fare quello che deve essere fatto in quella data. Per quanto riguarda invece Ferretti, si aspettava un atteggiamento diverso, o comunque una comunicazione antecedente al passo indietro che ha fatto? No, guardi, io con Ferretti ho ottimi rapporti e tali voglio che rimangano. Lui evidentemente prima di quel momento non se la sentiva di fare comunicazioni ufficiali e quindi me lo poteva dire riservatamente, questo sì, però non ci conosciamo così bene da poter dare a lui la sensazione che io, se dico che una cosa non la comunico, non la comunico. Lui me l'ha detto nel momento in cui non poteva fare a meno di dirmelo. Certo, qualche settimana prima mi avrebbe fatto comodo, ma non è che avrebbe cambiato sostanzialmente le cose. Quindi Ferretti ha fatto il suo gioco, gli do atto che si è impegnato per la società e quindi anche per la città, purtroppo non gli è andata bene, quindi lui in questo momento ha dovuto dire che le chiavi dello stadio sono queste. Ma non ce l'ho veramente con lui, anzi lui, ripeto, si è comportato bene. Magari se lo vedo nei prossimi giorni si può anche arrivare a un chiarimento su questo punto e forse, non lo so, mi potrà dire alcune cose che non mi ha potuto dire mandando un messaggino. Quale sarà l'impegno del sindaco quindi da oggi? Quello di incontrare delle persone e dare con la mia presenza la garanzia che la città è in attesa della chiusura positiva di un percorso che ha un significato importante per l'intera città. Io non è che metto soldi o metto garanzie, io do con la mia figura il senso della importanza di quest'operazione e delle ricadute positive che comunque avrà, perché voglio dire una squadra che si pone bene non tanto in un campionato di sci e sappiamo tutto quali ne sono i limiti, ma che può dare nel futuro uno sviluppo significativo anche a livello sportivo, e mi riferisco al calcio della prima squadra, credo che sia importante per chi viene a spendere soldi ad Arezzo. Magari gli aretini già mi conoscono tutti nel bene e nel male e chi viene da fuori Arezzo non mi conosce, forse è opportuno che mi conosca personalmente. La domanda tra gli imprenditori che ha incontrato nel loro passato, ci sono già presenze nel mondo calcistico? Non posso rispondere. Grazie.